Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Anche quest'anno, come ogni anno, Apple presenta i suoi nuovi dispositivi di punta iPhone, Apple Watch e qualche altro accessorio. Andiamo a vedere a poche ore dall'evento, quindi la mattina dopo, quindi oggi è l'8 settembre, cosa è stato presentato. Come primo impatto sul sito Apple troviamo appunto gli iPhone 14 Pro, dove andiamo subito a vedere questa nuova isola chiamata Dynamic Island. Andiamo a vederla direttamente, visto che ci abbiamo qua. Questa Dynamic Island, eccola qua, andiamo a vederla. Ovviamente i prezzi qua toccano livelli impressionanti, anzi, ci guardiamo direttamente il video. Togliamo l'audio così capiamo meglio. Come vediamo, all voice on display, ok, che si attiva, quindi abbiamo un all voice on display a colori. Telecamere soltanto una aggiornata da 48 megapixel. Le altre, la wide e la tele, rimangono praticamente simili a quelle dell'iPhone 13 Pro Max, o 13 Pro, quello che sia. Andiamo avanti, andiamo un pochino più avanti. La Dynamic Island, ecco qua il nuovo notch. diventa un qualcosa che interagisce col sistema. Quindi hanno trovato un modo, praticamente, per giocare col notch, praticamente. L'hanno rimpicciolito e l'hanno reso, praticamente, il punto focale del dispositivo quando si usa l'iPhone 14 Pro. Da 14 Pro in poi avremo, appunto, questa Dynamic Island. Come vediamo, ogni cosa che andiamo a ogni applicazione, tipo la notte telefonata, l'applicazione musica e qualcos'altro, ci viene direttamente posizionato nel nuovo notch. Come vediamo, questo nuovo sensore da 48 megapixel, mettiamo un attimo in pausa, è l'unico sensore che viene aggiornato. Quindi abbiamo fotografie da 48 megapixel con l'obiettivo standard. Poi rimane da 12 l'ultra wide, che è un po' un peccato, perché è quello che poteva avere anche questo, diciamo, un piccolo refresh. In più, il telefoto, quindi l'obiettivo, quello tele, rimane sempre a 12 megapixel. Va detto che grazie a questo obiettivo da 48 megapixel avremo uno zoom intermedio tra il 3x del telefoto, che è un 12 megapixel, e il 2x, che viene croppato, praticamente, l'obiettivo croppa da 48 a 12 megapixel, creando, appunto, un 2x, praticamente. Andiamo avanti col video, come vediamo, forse ci fanno vedere appunto che va a 2x l'obiettivo, ecco, 2x, lui croppa l'obiettivo, e quindi non perdiamo qualità, perché comunque con un 48 megapixel abbiamo un bel po' di pixel che ci consentono appunto di fare scatti un po' più dettagliati, più che altro. Cos'altra, si hanno comunque migliorato la gestione delle fotografie con una tecnologia dedicata appunto a migliorare le fotografie del lato software, e appunto viene creato appunto questo nuovo tipo di file Pro Raw, Apple Pro Raw, che è appunto per gestire le fotografie dei 48 megapixel, che come vedete con tutti quei pixel ci potete fare un quadro, praticamente, perché ci siamo. Con questo nuovo obiettivo abbiamo un piccolo aggiornamento per la parte video, praticamente guadagniamo la modalità azione, quindi viene stabilizzato molto meglio il video, quindi viene stabilizzato appunto meglio, e in più la Cinematic Mode, che è stata presentata l'anno scorso con gli iPhone 13, quest'anno può arrivare al 4K, sempre a 30 frame per secondo, l'anno scorso era 1080, 30 sempre per secondo, quindi sì, uno step successivo, ma non ancora quello che vorremmo vedere tutti, il 4K a 60 frame per secondo, e con 48 megapixel magari poter registrare i video in 8K, non sono stati nominati, si riservano le novità per il prossimo anno. Cos'altro abbiamo? Un nuovo processore A16 Bionic, che è velocissimo, e vabbè, intanto sappiamo già la storia. E questo è l'iPhone, purtroppo i prezzi sono importanti, perché si parte con un iPhone 14 Pro, da 128GB parte da, come vediamo, 1.339€. Quest'anno Apple, come ho messo tutto quanto spoilerato, anche il motivo per cui ha anticipato quest'anno la presentazione che sarebbe dovuta avvenire il 6 settembre per rendere più vicino l'acquisto anche dell'iPhone 14 Plus, di cui parliamo dopo, quest'anno Apple ha paura della recessione, ha paura della guerra, del discorso Covid, quindi tutti questi problemi che ci portiamo dal 2020, quest'anno stanno cominciando con il 2022, a fine anno, a portare tutto il mondo verso una recessione. Quindi per paura che questa recessione possa intaccare la stabilità economica anche di Apple, hanno ben pensato di anticipare l'evento, comunque praticamente una settimana dopo abbiamo a disposizione già tutti i dispositivi, questa è una buona cosa, ci saranno sicuramente scorte limitate, però per la prima volta Apple, appunto cosciente del fatto che il mondo sta cominciando a subire dei duri colpi, già per la prima volta ci fa direttamente acquistare i prodotti a rate, cioè che è una cosa addirittura a tasso zero per 24 mesi, quindi bene, cioè nel senso ti chiede 55 euro al mese invece di 1340 euro di un colpo di tasso zero, va bene, però come vediamo l'iPhone 14 Pro Max, quello che vorrei prendere io, ma mi sa che per quest'anno passerò, di solito ho sempre preso il 256 giga, ma con i nuovi video in ProRes purtroppo non ci fai niente, devi purtroppo passare subito al 5.12 perché sennò non fai neanche un video, stiamo parlando di 1900 euro di iPhone, ci vai a comprare un foldable della Samsung, cioè con 2000 euro di telefono, cioè il terabyte costa 2140 euro, cioè stiamo parlando di dispositivi che hanno un costo troppo importante, non è il caso di andare a spenderti questi soldi per un iPhone che ti dura un anno, poi dopo lo cambi, quindi secondo me è il caso di pensare veramente se è il caso di comprarlo, Apple comunque tiene a catalogo ancora gli iPhone 13, come vediamo, spariscono i 13 Pro, e c'è anche il 12, quindi sì, chi vuole avere questi iPhone qua deve essere come noi un super appassionato, quindi ci sta, oppure non ha tanto senso, cioè nel senso che hai solo un sensore da 48 megapixel, il processore è più veloce, ma vabbè, lascia il tempo che trova, e il nuovo notch, che praticamente è un po' un giocarellare con l'interfaccia grafica nuova, dovuta al nuovo notch, che quella fa anche piacere, è piacevole come cosa, comunque Apple ti coccola con il suo software, e l'always on display, che sì, non è nulla di eccatante, perché sì, se hai il dispositivo appoggiato sulla scrivania, o in tasca, se te ne fai poco di questo always on display, sinceramente, cioè, questo notch effettivamente, ti ingolosisce l'acquisto, perché comunque, ti introduce un nuovo modo di interagire col dispositivo, che effettivamente da anni, siamo ormai abituati sempre al classico modo, dall'iPhone X praticamente, quindi cambia poco, quindi sì, questo always on display, effettivamente, ti ingolosisce anche perché è a colori, tutti gli altri always on display, dei dispositivi Android, sono tutti always on display, in bianco e nero, Apple è riuscita a mantenere anche la parte a colori, delle foto, degli sfondi, se c'è un'immagine con effetto ritratto, quindi che Apple sa di tagliare lo sfondo, magari ti elimina lo sfondo, e ti lascia la parte in primo piano, come si vede in questa fotografia qua, quindi, ovviamente c'è anche tutto il discorso, dell'aggiornamento di iOS 16, con la nuova lock screen, che anche in questo caso, l'utilità, è dubbia, c'è più qualcosa di estetico, un po' più di, un po' più di appagante, diciamo, nell'utilizzare, personalizzare il proprio dispositivo, ma, sono tutte cose che non giustificano, un prezzo di 2.000 euro, per avere un telefono top di gamma, andiamo avanti con, gli iPhone 14, ah si, va detto che, l'iPhone 14 Pro, ha anche tutte le caratteristiche, dell'iPhone 14, che, la novità più importante, diciamo, tra virgolette importante, è la connessione satellitare, infatti, in questo evento, hanno perso tanto più tempo, a spiegare, l'iPhone 14, che non l'iPhone 14 Pro, perché, in questo iPhone 14, cosa viene inserito? viene inserito, e anche nel 14 Pro, viene inserita un'antenna satellitare, a doppia, non so, c'è con una tecnologia particolare, che, vi consentirà, di fare delle telefonate, di inviare dei messaggi, con delle latenze, ovviamente, dovuto alla tecnologia satellitare, che è un po' più lenta, di quella normale, cellulare, di cui siamo abituati, per le emergenze, quindi, se si è senza campo, sperduti, in mezzo al mondo, da qualche parte, in qualche bunker, e, con la tecnologia satellitare, potremmo, richiedere soccorso, farci ritrovare, dove siamo, in più, sparisce, la versione mini, degli iPhone, e, abbiamo, il nuovo iPhone 14 Plus, questo perché, chi sceglie l'iPhone, e non è la scoperta, dell'acqua calda, sceglie sempre il top di gamma, cioè, chi vuole un iPhone, vuole il migliore che ci sia, perché, sa che prende un prodotto Apple, sa che prende un prodotto caro, e tanto vale prendere il top di gamma, poi, ovviamente, qualcuno, per forza di causa maggiore, anche per scelte personali, si ferma un po' prima, però, il, il Pro Max, eccolo qua, 13 Pro Max, ad esempio, è quello che ingolosisce di più, perché ha più batteria, quindi, non sei più schiavo, del carico a batterie, non devi stare lì, dietro alla percentuale della batteria, lo carico la mattina, me lo dimentico, durante il giorno, perché ti basta, tutta la giornata, la batteria, con la versione, appunto, maggiorata, con quelli più piccoli, devi ogni tanto stare attento, quindi, è ovvio che chi prende un iPhone, prende il Max, quindi, con il 12 mini, e il 13 mini, Apple si accorta che, a causa della poca durata della batteria, la gente era poco interessata, e di conseguenza, non ha avuto, quelle grandi, cioè, non è stato così ben voluto, dalla clientela, come si aspettava Apple, quindi lo hanno eliminato, e hanno capito, che devono produrre un prodotto, di dimensioni più grande, appunto, per il discorso della batteria, perché così, avendo un iPhone più grande, ci sta più batteria, hai un display maggiorato, e via dicendo, in più la versione, è liscia, come viene chiamata da qualcuno, su YouTube, quindi non pro, dell'iPhone, è in alluminio, non è in acciaio, di conseguenza, è più leggero, è più sottile, è più gestibile, mentre la versione, pro Max, è più pesante, è più importante, è più ingombrante, quindi, per qualcuno, che non gliene frega niente, del nuovo notch, dell'Always on display, e del full sensore, dei tre sensori, invece di due, e 48 megapixel, e mi pare anche del, ProMotion, che ancora non sia stato inserito, neanche nel 14 normale, va bene anche questo, ecco, quindi questo diciamo, che è l'iPhone per tutti, chi entra per la prima volta, nel mondo Apple, o via dicendo, ecco, hanno però portato, il colore del Pro Max, dei pro, dei terrici pro, dell'anno scorso, l'hanno tolto, dalla versione pro, che è un peccato, e l'hanno portato, nella versione, liscia diciamo, quindi c'è lo stesso azzurro, l'hanno chiamato semplicemente blu, ma non è blu, è un blu chiarissimo, niente, poi qua, devono per forza, mancando altre novità, lì in fuori del satellite, hanno dovuto appoggiarsi, sul software, e sulla parte appunto, satellitare, tutti i dispositivi, ora hanno, qua si parla del, del plus, che ha un display, un po' più grande, e hanno appunto, questa antenna, è la possibilità, l'antenna satellitare, è la possibilità, di, rilevare gli incidenti, perché, in base agli spostamenti, agli, diciamo, gli urti, che sente, sente il movimento del dispositivo, all'interno della tasca, o anche quando, l'hai appoggiato, capisce che magari, si è fatto un incidente, quindi, si, si, è in grado, di farti chiamare i soccorsi, anche se fanno un incidente, quella è una cosa simpatica, non che tutti facciano, un incidente ogni giorno, però comunque, è una funzione in più, che male non fa, e, cos'altro, niente, qua, le fotocamere, dicono che sono fighissime, sono bellissime, ma alla fine, il processore, è lo stesso, degli iPhone 13, e, pro, penso, e di conseguenza, e, e, sì, anche le fotocamere, avranno qualcosina in più, ma, grosso modo, saranno, le stesse dell'anno scorso, perché sono sempre sensori, 12 megapixel, vi dicendo, come vediamo, non c'è, il, il, il promotion a 120 hertz, che, visto l'aumento di prezzo, ci sarebbe potuto stare, nella versione base, cosa che non c'è, subito dopo gli iPhone, abbiamo la versione Apple Watch, i nuovi Apple Watch, come vediamo, abbiamo, uno, due, tre, e quattro, Apple Watch nuovi, tralasciando la parte, Hermes, è uguale, alle versioni, del serie 8, ci possiamo cliccare, ma è sempre il nuovo serie 8, che, esteticamente, è uguale, identico, al precedente, serie 7, cosa hanno aggiunto, quest'anno, come normale, evoluzione lenta, degli Apple Watch, quello qua, a parte, buona, parte software, che è qua, cambia poco, vediamo un po', qua tutte cose già sapute, nella parte, eccolo qua, il nuovo sensore di temperatura, quindi, l'Apple Watch serie 8, sarà in grado di, registrare con precisione, la temperatura, mentre si dorme, con le varie di temperatura, forniscono indicazioni, sul stato della salute, possono dipendere, da fattori, da consumo di alcol, e via dicendo, e basta, poi si, al suo interno, c'è la possibilità, di, appunto, rilevare gli incidenti, se avendo, un accelerometro, che rileva, fino a 256G, quindi l'urto, riesce a salvarsi, in caso di incidenti, anche con l'auto, ok? Poi tutte queste cose qua, sono cose legate al software, integrazione con l'iPhone 14, nulla di che, la vera novità, è quella, dell'Apple Watch Ultra, con il nome, hanno un po' troppo esagerato, potevano già chiamarlo Pro, ma, vabbè, Ultra, perché, effettivamente, è un prodotto, che nasce, per chi fa sport estremi, infatti parte, già con la gente, che corre nel deserto, quindi, è un dispositivo, abbastanza, cioè, che alla fin fine, verrà preso da tutti, forse anche da me, che non vado nel deserto, a correre, e non mi lancio dalle montagne, però, probabilmente, sarà un prodotto, che, per una questione di status quo, di noi fanatici Apple, lo acquisteremo, è un prodotto, che nasce solo in titanio, quindi, la versione edition, che era appunto, negli Apple Watch, l'anno scorso, in versione in titanio, sparisce dalla versione tradizionale, quindi, l'Apple Watch Serie 8, non è disponibile in titanio, si arriva fino all'acciaio, e il titanio, viene usato per la versione ultra, che ha appunto, un display piatto, quindi, i bordi, come accade negli Apple Watch normali, che, questo bordino qua, è quello che spesso, viene sbattuto nelle porte, nelle maniglie, dappertutto, e si graffia anche il display, hanno finalmente capito, che, avendolo inserito a filo, quindi, avendo fatto un vetro piatto, e protetto dal titanio, in questo caso, il display è un po' più, cioè, ha meno, l'opportunità, per essere sbattuto, contro i muri, e, la cassa, ha solo una misura, la più grande che c'è, quindi, 49 mm, arriviamo con serie 8, a 47 mm, massimo, abbiamo appunto, questa digital crown, che è, ah sì, l'acqua, vi so che lo dico, non lo dico anche qua, arriva fino a 100 metri sotto acqua, non male, ed è certificato, a livello militare, in base a questa cosa qua, non so cosa sia, resiste alla polvere, in grado di XP, quello che è, e questa digital crown, come vediamo, con il tasto, il classico tasto, che abbiamo, sempre avuto, per bloccare, per entrare nei menu, e via dicendo, è stato protetto, ulteriormente, diciamo, contro gli urti, per evitare che, qualcuno, non so come, negli anni, è riuscito a rompere, la digital crown, dagli apple watch, in qualche modo, loro l'hanno protetta, protetta, perché sono, corrente che, la digital crown, può rompersi, allora, l'hanno protetta ulteriormente, creando questa protuberanza, hanno inserito, questa modalità notte, per vedere meglio, e, e anche per preservare la batteria, perché, questo, apple watch, con la modalità, risparmio energetico, che troviamo in tutti, gli apple watch, aggiornati, vediamo, eccola qua, adesso, forse, la vedete al contrario, però, c'è una dieta, risparmio energetico, che, adesso, vi lascia comunque, usare, l'apple watch, però, e, vi tira via, la versione, cioè, vi toglie, l'allway sound, vi tira via, tante funzioni, in background, anche forse, da parte cellula, se non sbaglio, e, nei normali, apple watch, in questo qua, arriviamo a 60 ore, di autonomia, quindi, più di due giorni, con la modalità, risparmio energetico attivo, quindi, qua, si cerca, in qualche modo, di far risparmiare la batteria, per farlo durare di più, dal lato opposto, che, di solito, troviamo sempre, è solo, la cassa, e basta, e forse, il microfono aggiuntivo, o solo la cassa, in questo caso, troviamo, un altoparlante, ridisegnato, nuovo, quindi, più, più, forte, in teoria, si dovrebbe avere, un volume più alto, si spera, un nuovo, tassazione, che questa è la vera novità, che, purtroppo, solo di questo colore, prenderlo a lasciare, e, lo si può personalizzare, per, richiamare, delle azioni personalizzate, questo è molto utile, in più, qua abbiamo appunto, questa sirena, che penso che siano tutti, i quattro fori, che sono attorno a live, all'Apple Watch Ultra, che è utile, per, per, fare mettere suoni, magari, in caso anche di, emergenze, dall'altra parte, qua ci fanno vedere, ecco qua, i microfoni, il tasso laterale, che, può, come tutti gli Apple Watch, se lo tieni premuto, insieme alla Digital Crown, di solito, ti consente di fare, una chiamata in emergenza, qua hanno inserito, un profondimetro, ecco cos'era questo foro, che, fino a 40 metri, è in grado di, come vediamo, sentire anche, la temperatura dell'acqua, caspita, effettivamente, come vediamo appunto, come abbiamo detto, normalmente fa fino a 36 ore, poi ci sono qua, le clausolette in piccolo, quindi 36 ore, comunque un giorno e mezzo, e con il risparmio energetico attivo, in arrivo, sarà un aggiornamento software, fino a 60 ore, non male, ci sono, allora, il colore è questo, cioè quindi non ci sono altri colori, il color titanio, 49 mm, è un po' più stondato, bello, comunque purtroppo, ci sono questi bordi abbastanza, se si era arrivati a fare, ad avere, essere borderless, con la serie 7, poi serie 8, ora torniamo ad avere i bordi, abbastanza marcati, purtroppo, ma si sta perché serve appunto per proteggere il vetro, ed è solo di questo colore, ci sono questi cinturini esclusivi, lui comunque dovrebbe essere retrocompatibile con i cinturini delle versioni precedenti, quindi con la serie 8, la serie 7, via dicendo, quelli che abbiamo sempre usato dal primo Apple Watch, e a questi cinturini esclusivi, dove appunto, ci sono, cioè, ci sono studiati apposta per sport estremi, praticamente, per non perderlo, e via dicendo, adesso qua parlano un po' di, di cinturini, ma nulla di che, come vedi qua, fanno vedere un po' di sporcizia, vorrei proprio vedere, a lato pratico, come si riduce questo Apple Watch, ma vabbè, cos'altro, ah sì, buono, fino a meno 20 gradi, fino a 55 gradi, mi pare che sono delle migliorie, a livello hardware, e buono, vediamo un po' i cinturini, questo ad esempio, c'è il fermaglio, anche sempre in titanio, per mantenere la leggerezza, qua vediamo che, c'è anche un'applicazione, appunto, o se mi pare che si chiama, per i sub, praticamente, tutta una app fatta apposta, per chi va a fare immersioni, cos'altro, niente di che, una cosa simpatica, sul mondo Apple Watch, che d'ora in poi, con Watch OS 9, che io ho già a Golden Master, questo è un Apple Watch normale, ho già i quadranti, della serie Nike, quindi, aggiornando l'Apple Watch, dal 12 settembre, per chi non ha, versioni beta installate, potrete avere tutto il pacchetto, quadranti Nike, in tutti i vostri Apple Watch, da serie 4 in poi, se non sbaglio, basta, cos'altro abbiamo, una piccola altra novità, le AirPods Pro 2, che, praticamente, oltre a costare, come le altre, praticamente, hanno, le gambette, che ora, hanno la possibilità, di essere, non solo premute, ma anche, scrollate, quindi, riescono a rilevare, il touch, direzionale, per aumentare, abbassare il volume, ad esempio, ha, finalmente, questo chip, H2, che, da anni, ci portiamo avanti, l'H1, le prime AirPods, è stato aggiornato, e, quindi, più performante, batteria che dura di più, e via dicendo, c'è l'audio spaziale, che, è un po' più performante, un po' più, diciamo, personalizzabile, ok, quindi, è più, due volte più efficace, hanno aggiunto, se non sbaglio, anche la XS, come, quarta, quarto cuscinetto, perché, prima si partiva dalla S, la ML, erano solo tre, quelli che ti davano, ora ti danno anche la quarta versione, XS, XA Small, ecco qua, vediamo che possiamo, a, scorrere il livello del controllo, quindi, come vi dicevo, la gambetta, ora è anche scrollabile, e, cos'altro, buona parte, domino che balla, sì, hanno aggiornato anche il case, finalmente, dura un po' di più la batteria, lo si può caricare, sempre in modalità MagSafe, e, penso che sia stato creato, forse un secondo, secondo case, forse uno per tutti, uguale, spero di sì, perché se no, abbiamo il porta d'anello, il porta d'aceto, che mi pare che viene già fornito, dentro la confezione, e abbiamo un alto parlante integrato, per, essere magari, per trovare anche le iPods, probabilmente, comunque, puoi mettere su ogni anche il case, buon, come sempre, li si possono personalizzare, in fase di acquisto, e basta, se andiamo a vedere, cosa c'è dentro la scatoletta, leggevo, ecco qua, che viene fornito, appunto, già, il case per il laccetto, quindi, il dubbio, non c'è più, e, la cassa integrata, la cosa brutta, bruttina, vediamo, se qua lo dicono, eccolo qua, custodia e ricarica, my safe, con altro, altoparlante, e, anello per l'aceto, quindi c'è tutto, e, sì, che gli hai, tornando un attimino, agli iPhone 14, purtroppo, questi benedetti, iPhone 14 Pro, che registrano video, in ProRes, e via dicendo, quindi, cose non da poco, hanno sempre il lightning, che è lento, e, per passare i video, che sono video, che anche 10 minuti di video, possono, tipo, pesare 30 giga, o si usa il drop, o con il lightning, ci si sta in un secolo, a esportare il video, quindi, secondo me, conclusioni finali, poi, comunque, col tempo, avremo modo di ricrederci, se hai un iPhone 13 Pro Max, a parte il notch figo, l'oliguson display, e un solo sensore aggiornato, non so se ne vale la pena, come dico, se siamo fanatici, anche se non ci fosse neanche, nessun aggiornamento, come dal 6 al 6S, o come accadeva con le versioni S, lo si compra lo stesso, anche solo per il colore nuovo, quando si è proprio fanatici di Apple, però, con una mano sul cuore, e l'altra sul portafoglio, secondo me, le novità, sono appetibili, ma non giustificabili, valutate, non vi sto dicendo di non prenderlo, comunque, ora, grazie a questa presentazione, di questi nuovi iPhone, su Amazon, abbiamo appunto, finalmente, dei prezzi più appetibili, magari per gli iPhone 13 Pro Max, eccoli qua, 13 Pro Max, che ora, sono, come vediamo, un po' più bassi, tipo 1.200, vedi, cioè, 256, 1.229, cioè, si risparmiano già, 80 euro, quindi, finalmente, ci sono anche dei risparmi, grazie alla presenza, dei nuovi 14, nient'altro, io a questo punto, vi chiedo gentilmente, di iscrivervi al canale, YouTube, ovviamente, questo è il canale, quello dedicato, alla domotica, ma, che è elettricista evoluto, li carico anche qua, i video, però, vi chiedo, di iscrivervi anche, il mio canale personale, che è un secondo canale, dove cercherò, di convogliare, tutta la parte, dedicata, a ciò che non è domotico, sul mio canale, appunto, Davide Grande Pieno, dove, eccolo qua, dove sono io, dove qui dentro, appunto, sto cercando, appunto, di caricare, ho già caricato, il video, di reaction, già di ieri sera, appena finito l'evento, vi chiedo, pian pianino, di iscrivervi a questo canale, lasciare un mi piace, a tutti e due i canali, in realtà, in maniera tale, da, dirigere, i due argomenti, su due canali diversi, un saluto, iscrivetevi, lasciate un mi piace, e, cliccate sulla campanellina, ciao!